Vogliamo ricordare che siamo i peggiori in Europa e nonostante eravamo quelli che erano peggiorati più di tutti e quindi in questo momento teoricamente dovremmo essere quelli che crescono più velocemente rispetto agli altri vogliamo ricordare che c'era un signore che arriva da vicino a Firenze e ci aveva raccontato che col Job Act a medio-lungo termine avremmo risolto i problemi, perché a breve termine i problemi non li aveva risolti il medio termine ci siamo già e il Job Act non sta risolvendo niente, abbiamo il 37% di disoccupazione giovanile ricordo solo una cosa, durante il governo Berlusconi c'era la disoccupazione giovanile al 29% i fenomeni del partito democratico avevano messo fuori un manifesto con scritto disoccupazione giovanile al 29%, Berlusconi dimettiti qui cosa dobbiamo dire al Presidente del Consiglio? Emigra, non dimettiti, emigra perché non sei in grado di dare risposte a chi sta cercando un posto di lavoro in questo momento